Milano, 10 gennaio 2018, alzi la mano chi non conosce lo schiaccianoci. Chi si trova a Lecce domenica 14 gennaio 2018 potrà assistere alla rappresentazione teatrale di uno dei classici della storia della danza, alle ore 18 la camerata musicale Salentina al teatro Apollo propone il balletto lo schiaccianoci. Sul palco i ballerini della Compagnia Nazionale Raffaele Paganini, che danzeranno sulle classi, che musiche di Tchaikovsky e con le coreografie di Marius Petipa. Il balletto si ispira come sempre alla favola Lo schiaccianoci di Ernst Theodor Amadeus Hoffman del 1816, riportando in scena, in chiave moderna, la fiaba che tutti conosciamo a memoria, tra soldatini, addobbi natalizi, fiori, dolci, fatine, principi azzurri e molto altro ancora. La storia ci racconta di Clara, una bambina che a Natale riceve in regalo uno schiaccianoci a forma di soldatino, che il fratello le rompe. Mentre dorme, Clara sogna che il suo principe, lo schiaccianoci, la porterà in un luogo incantato dove le bambole magicamente prendono vita. Durante il finale, con la musica del Valzer dei Fiori, Clara si sveglierà felice del regalo ricevuto e del sogno fatto. I biglietti si possono acquistare in prevendita presso la camerata musicale Salentina, ma anche presso il Castello Carlo V e online e nei punti vendita che fanno parte del circuito Bokin Show.